Buongiorno, sono il dottor Dallago di Requaroterme, sono il titolare della farmacia Reale. Avevo la necessità di ammodernare la parte antica della farmacia con una parte moderna, ovviamente più funzionale alle esigenze della vendita di adesso. Non volevo però perdere la tradizione, non volevo perdere il legame con la storia della mia famiglia. Siamo riusciti a coordinare due cose creando due ambienti contrastanti con l'uno, con l'altro dove una parte antica che ricorda la storia anche della tradizione del mio paese di Requaroterme con una parte completamente moderna, con degli spazi adeguati a una vendita, a un acquisto di impulso e a un acquisto selezionando i prodotti molto più facilmente. Con ITAB siamo riusciti a trovare la giusta combinazione e abbiamo riempito in pieno, abbiamo colpito nel segno, insomma, credo, negli ambienti con l'idea che cercavamo. Vi aspetto nella mia farmacia, siamo a Requaroterme, se volete passare vi aspetto volentieri.